Nasce dal racconto di storie vere di donne che lavorando nei pubblici esercizi hanno riportato e fatto tesoro delle esperienze, da chiudere di notte una serranda al buio all'interno di borghi magari poco illuminati o anche nei centricità, piuttosto nel racconto di quello che vedono osservando la propria clientalia. Così il mondo di bar, ristoranti e locali notturni di Arezzo e provincia è pronto a fare la sua parte nel contrasto alla violenza di genere con la formazione del personale e un'app per fare segnalazioni dirette alla Polizia di Stato. Si tratta del progetto Hashtag Sicurezza Vera, iniziativa lanciata in via sperimentale in 20 città a fine 2021 ed ideato dal gruppo imprenditrici di Fipe Conf Commercio in sinergia con la Polizia. Si innesta dentro la precedente, questo non è amore, che è un filone di conduzione di violenza, di cultura e diffusione. di attenzione contro la violenza di genere, che però quella vedeva più la parte privata, mentre invece questa è più verso l'esterno e ne abbiamo fatto sintesi. L'obiettivo è quello di diffondere la cultura della legalità e creare attraverso la rete dei pubblici esercizi strumenti concreti e fattivi per combattere il fenomeno che in Italia vede il 31,5% delle donne subire una o più aggressioni nel corso della vita. Troppo spesso ci troviamo di fronte a questo tristissimo fenomeno e quasi quotidianamente ci sono episodi che culminano poi addirittura nel femminicidio, per cui tutte le iniziative che sono dedicate a questa inversione culturale sono delle iniziative essenziali. La Fipe Conf Commercio nelle prossime settimane avvierà così la formazione dedicata al personale dei locali che si iscriveranno alla piattaforma www.sicurezzavera.it. I locali avranno poi a disposizione anche un canale preferenziale all'interno dell'app Youpol per segnalare alla centrale di polizia eventuali casi sospetti usando l'hashtag Fipe nel messaggio. La donna forse in un bar davanti a una tazza di caffè si apre molto più facilmente oppure in un negozio di abbigliamento mentre misura un abito si confida più facilmente. Ecco, quindi noi vogliamo coinvolgere gli operatori del settore ad avere un occhio da poliziotto. Vorremmo che gli operatori fossero delle sentinelle in questi ambienti e ci aiutassero.